Napoli, Napoli che fa moda e Napoli che è diventata di moda? Napoli può fare tutto quello che vuole. È una bella donna lui? È una bella donna, io vengo sempre a Napoli, ho vissuto a Napoli quando ho fatto teatro all'Augusteo con Vittorio Marsiglia per tanti mesi e sono stata benissima. Sono venuta per l'associazione Cannavaro Ferrara, per la riqualificazione della città di Napoli e provincia. Ho fatto le mie bomboniere a Napoli. È un amore senza fine? È la mia seconda casa, dopo Roma sono nata a Roma, però la mia seconda casa è Napoli. E noi ti ringraziamo sempre, un saluto agli amici di Joe Snapple. Joe Snapple? Ma Joe Snapple se io vi amo, come Napoli. Grazie.